ecco la vista 360 dal monte matto questa è la cima sullo sfondo in questo momento si vedono da destra a sinistra tavola rocca biasca fosco orsaro braiola marmania poi ci sono di fronte davanti le due cime minori brusa e aquila quello che si comincia a intravedere ad essere la valle del magra toscana questo qui è il vallone sotto il matto spesso pieno di caprioli laggiù si intravede pontremoli aulla e là in fondo il golfo ligure il golfo dei poeti cinque terre l'erici spezia e quello è il golfo ligure da telefono non si vede ma si intravede lontananza anche la corsica da sinistra si stanno scoprendo le alpi apuane coloro nuvolone sempre c'è sempre lì sopra davanti a noi sotto il pallone sotto silla la sud col bivacco porcili e la strada d'accesso che si intravede sulla destra a metà quello che si sta scoprendo adesso è sillara la montagna più alta dalla provincia di parma e sullo sfondo si intravedono a sinistra al ventasso è circa al centro dietro a sillara su ciso e cusna circa metà schermo adesso ci sono rocca pomaciolo rocca pomacioletto sulla sinistra il navert ed eccoci ancora al matto ciao ciao